E' tutto pronto per il viaggio di Papa Francesco in Polonia per la giornata mondiale della gioventù. Ma questa visita servirà al pontefice anche per rendere omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti. I dettagli in questa scheda. Nuove anticipazioni sul viaggio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Cracovia. C'è attesa anche per la sua visita ai campi di concentramento tedeschi. Dalla sala stampa del Vaticano si apprende che venerdì 28 luglio non è in programma una messa pubblica. Il Papa la dice in privato la mattina presto prima del grande evento la visita ad Auschwitz. Francesco, ha riferito padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, ci arriverà in elicottero con il quale percorrerà 30 chilometri per arrivare al luogo della storia complessa e molto impressionante e cercare di capire il sistema assolutamente assurdo e orribile che era stato costruito per l'eliminazione del popolo ebraico e di tante altre persone. Altri due papi sono stati ad Auschwitz. Giovanni Paolo II nel 1979 davanti il primo viaggio in Polonia E' benedetto XVI il 28 maggio del 2006 quando visitò i campi e fece un grande discorso che non era nel contesto liturgico, ha ricordato il portavoce Vaticano che ha aggiunto Francesco non dice parole, il suo silenzio è di dolore, di compassione, delle lacrime. Il Papa non prevede di parlare, come ha detto chiaramente nel viaggio in Armenia, chiede il silenzio e il dono delle lacrime. L'auto con a bordo il Papa si fermerà presso l'arco d'ingresso ad Auschwitz. Da lì Francesco entrerà a piedi passando sotto la porta, poi però proseguirà con una vettura elettrica fino al blocco 11, luogo della sosta per una preghiera silenziosa alla piazza dell'Appello, dove venivano sentenziate le persone e impiccate, il luogo in cui Sanna Massimiliano Colbe si offria al posto di un altro che era stato scelto. All'ingresso del blocco 11 il Papa verrà accolto dal primo ministro polacco e incontrerà individualmente dieci superstiti, l'ultimo dei quali gli consegnerà una candela davanti al muro della morte in cui venivano fucilati con la pistola alla nuca tantissime persone. Francesco riceverà la candela e accenderà una lampada che offrirà come dono al campo. Giunto nel punto attiguo al blocco in cui è morto Sanna Massimiliano Colbe, Francesco verrà accolto nell'edificio dal superiore generale provinciale dei franti conventuali, poi scenderà da solo nel piano inferiore e compirà una visita in forma privata nella cella dove è stato rinchiuso il santo. Il 29 luglio è proprio il giorno della condanna a morte di Colbe, 75 anni fa, ha sottolineato Lombardi. Il Papa resterà in preghiera in questa cella e alla fine firmerà il libro di onore.